Oggi si sono svuotate le scuole superiori della provincia di Pesaro Urbino al pari di quelle di tutta Italia. Come imposto dal DPCM del Governo, da questo martedì si è passati alla didattica interamente a distanza, almeno fino al 24 novembre. La Regione Marche però alza il tiro e da domani e fino al 4 dicembre impone la didattica a distanza anche all'Università. E' questo uno dei provvedimenti dell'ordinanza regionale firmata ieri dal Governatore Francesco Acquaroli, che tra le varie misure adottate abbassa ulteriormente la capienza del trasporto pubblico locale. Ora gli autobus potranno essere affollati al 50% della loro capienza. Autobus e scuola, due tematiche che si sono costantemente intersecate nel tema pandemico. Ora la Regione pensa anche al rimborso degli abbonamenti. L'assessore ai trasporti Guido Castelli ha infatti già preannunciato di riconoscere un ristoro agli utenti che hanno dato fiducia al trasporto pubblico, ma sono stati costretti a non usufruire del servizio. Aspettando il prossimo DPCM ormai imminente, le Marche cercano dunque di arginare il fenomeno in un territorio regionale che il Governo non riconosce attualmente fra le zone rosse, quelle a più alto rischio definite sulla base degli specifici tassi di contagi. La Regione però pensa anche ad altre misure. Al vaglio del tavolo regionale resta ad esempio molto concreta l'ipotesi di chiudere i centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica per evitare assembramenti. Tutte ipotesi utili ad affrancarsi dai cosiddetti lockdown mirati ventilati dal Premier Conte a seconda delle Regioni. Secondo l'ultimo report, le Marche non sono infatti fra le 11 regioni classificate a rischio elevato di trasmissione incontrollata della malattia. Ora si attende il prossimo passo del Governo con le ipotesi sempre più concrete di coprifuoco serale e di divieto di spostamento fra regioni. Le Marche però intervengono anche sul fronte sanitario, pronta l'assunzione infatti di 3.000 infermieri. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che ha spiegato come siano state pubblicate le graduatorie del personale infermieristico che sarà chiamato per l'assunzione a tempo determinato per tre mesi. Una volta poi validata la procedura concorsuale si passerà al contratto a tempo indeterminato.